Tempesta d'Amore continua a tenere compagnia ai telespettatori di Rete 4 anche durante le festività natalizie. La SOP tedesca va in onda tutti i giorni alle 19.50 circa subito dopo il TG4 delle 19. Cosa accadrà nelle puntate dalla 500 alla 1 Tempesta d'Amore dall'1 al 6 gennaio 2018? La lettera di David sconvolge Tina. Il ragazzo è dispiaciuto ma non può fare altro per lei e per il figlio che porta in grembo. Tina è delusa ma cerca di pensare al futuro. Si scontra con Beatrice e ciò rischia di crearle problemi sul lavoro. Alphonse vuol fondare un circolo letterario. William dà poca importanza al bacio e alla dichiarazione d'amore di Naomi fino a quando lei non annulla le nozze. Rebecca, in un primo momento, decide di non dire nulla a Dela su quanto ha visto ma poi rivede insieme William e Naomi. Desiree è molto presa da Shristoff e non dà ascolto a Nils che cerca di metterla in guardia. Charlotte e Werner si vedono costretti ad intervenire contro Shristoff che continua a bloccare la via d'accesso dell'hotel. William dice a Rebecca di non provare assolutamente nulla per Naomi. Ella scopre che l'attrice tradisce il marito e Rebecca le racconta del bacio. Le anticipazioni di Tempesta d'amore della prossima settimana svelano che Friedrich cadrà in una trappola. Nel circolo letterario nascono i primi dissapori. André chiede aiuto a Tina, il critico gastronomico che dovrà decidere se assegnargli una nuova stella e lo stesso che ha lodato la ragazza alla scuola professionale. Ella, dopo aver saputo del bacio di Naomi e William, è sotto shock. La donna prende una clamorosa decisione che spiazza il suo fidanzato. Dopo le accuse di Friedrich al parroco, Rimpel chiede i danni all'albergatore. Tina riceve un'allettante proposta di lavoro da Boris. Ella lascia a William che dà la colpa a Rebecca. La ragazza decide di aiutarlo a riconquistare la fidanzata. Ella chiede a William di sposarla ma lui rifiuta. Lei si convince che lui non la ami. Shristoff invita a cena Desiree invece di prendersela con lei per averlo spiato e, addirittura, decide di appoggiare il progetto di Boris e Tina. Dopo il nuovo ricatto cos'altro accadrà nelle nuove puntate dalla 500 alla 1 Tempesta d'Amore? William e Della convoleranno a nozze? Andre otterrà la stella per il suo ristorante? L'appuntamento con le nuove imperdibili puntate dalla 500 alla 1 Tempesta d'Amore è tutti i giorni alle 19.50 su Rete4.